I-TEC L'idea è di smettere di moltiplicare display e invece di ricorrere a superfici che già esistono nel mondo in cui ci muoviamo, usando ad esempio anche il palmo della nostra mano, che naturalmente è sempre con noi. Un sensore cinetico aiuta il proiettore a correggere costantemente la distanza focale quando l'utente si muove e cambia superficie. I ricercatori ammettono che il prototipo con cui stanno testando questa tecnologia è lungi dall'essere di piccole dimensioni, ma contano di arrivare a un dispositivo miniaturizzato in pochi anni. Negli ultimi tre anni l'efficienza luminosa di questi proiettori si è triplicata. Ci sono stati miglioramenti anche sul fronte dell'alimentazione energetica degli stessi, tanto che in tre o quattro anni potremo portare addosso questi dispositivi, legandoli al collo o agganciandoli alle tasche. Saranno compatti e con un'adeguata luminosità in ambienti interni. Questo oggetto potrà essere molto utile agli utenti in movimento, che ad esempio volessero ricevere rapidamente delle informazioni mentre stanno camminando.